Anche l'Abruzzo e Pescara protagonisti nel weekend di grande mobilitazione nazionale per la prima campagna di tesseramento del Popolo della Libertà. Dopo i coordinamenti regionali e provinciali, il partito comincia ad avere la sua struttura. 48 i banchetti in Abruzzo, spiega il vice coordinatore regionale PDL Fabrizio Di Stefano, per la raccolta delle adesioni con alcune importanti novità. La prima sulle quote, a secondo dei ruoli all'interno del partito e soprattutto la trasparenza. No alle iscrizioni di massa, innanzitutto. Per iscriversi ci si dovrà arrecare personalmente nei banchetti con la fotocopia di un documento. La quota sarà versata tramite conto corrente bancario o postale direttamente alla Federazione di Roma. No ai signori delle tessere, quindi. Da Roma, poi, le iscrizioni torneranno alle federazioni regionali che valuteranno se la richiesta sia accettabile o meno onde evitare deprecabili episodi, anche di infiltrazione malavitosa, come si sono verificati di recente in Campania. Di Stefano poi annuncia nel 2010 i congressi per eleggere i coordinamenti cittadini e provinciali. Dalla base, il partito degli eletti diventerà davvero il partito del popolo della libertà. L'obiettivo di questo primo weekend di adesione, aggiunge Di Stefano, le 2000 tessere. Obiettivo ambizioso ma non velleitario per il sindaco di Pescara Albore Mascia, tra i primi in Italia a candidarsi nel 2008 con il simbolo del PDL. Il coordinatore provinciale Sospiri ha poi reso noto che i banchetti principali ci saranno sabato dalle 16 e domenica dalle 9.30 in piazza Salotto a Pescara, in piazza Diaz a Montesilvano, Corso San Francesco a Penne e nell'area pubblica dell'Arca Spoltore.